Io credo che i numeri parlino, parlino chiaro e credo che questa purtroppo ascia della seconda ondata sia arrivata e quindi diciamo con i comportamenti virtuosi si riuscirà a tenerla sotto controllo. Sappiamo quello che dobbiamo fare e veramente mi appello a tutti perché è un momento molto difficile e non finirà qui, dobbiamo arrivare dall'altra parte dell'inverno. Quindi anche questi momenti di grande emozione rispetto a adesso arriva il vaccino e sarà tutto a posto, cominciamo a dire quello che sappiamo, sappiamo che il virus c'è, il virus sta circolando e il virus si vuole endemizzare. Il suo obiettivo è infettare il più alto numero possibile di persone nel più breve tempo possibile. Noi sappiamo cosa dobbiamo fare e vorrei chiedere una cosa adesso, io vorrei chiedere alle persone che si mettono sempre la mascherina, quanti di loro sono finiti in ospedale? Cioè le persone che non guardiamo chi non si comporta bene, guardiamo chi si comporta bene e promuoviamo quei comportamenti virtuosi perché sono quelli comportamenti virtuosi che possono essere copiati perché funzionano.